giorno 2 red bull romaniacs ieri stata una giornata decisamente impegnativa quasi tutti i piloti sono usciti al check 6 hanno deciso di annullare una parte del percorso quindi nessuna penalità e oggi hanno ridotto i chilometri da percorrere pare che abbiano tolto i pezzi un po' più incasinati quindi andiamo a vedere oggi cosa succede e se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo dice il blogger ok in general blogger always full gas don't be pussy like this ah ok I tried to do that Deborah ieri è stata un po' dura eh? si parecchio c'erano delle salite molto impegnative c'erano parecchie persone in mezzo quindi non si riusciva andare da nessuna parte e poi ho trovato molto difficile una discesa nella quale alla fine dove trascinarti giù alla moto dove dovevamo spingere in discesa no no ah si spingere la moto a tirare proprio la moto perché non si stava in piedi e te la trascinavi giù con te te la portavi proprio l'importante comunque essere alla partenza giorno 2 e oggi faremo meglio dai e noi ci siamo e ci siamo e vai dal messico padre e figlio gas gas messi siamo Sector Junior niente non ce la faccio a non fermarmi sono dei posti pazzeschi adesso con questa nebbia è davvero una roba mistica di là c'è il sole qui siamo in un punto in cui il percorso gold bronze silver si divide deve andare su e iron invece va dall'altra parte lui è già il terzo tentativo che fa accelera allora siamo arrivati al punto assistenza di oggi partenza più veloce comunque dura un po di discese belle viscide sono rimasto incastrato in un albero con la moto cappottata e se non mi aiutavano in due rimanevo lì un po di manutenzione sulla moto sempre super bobita in action e ora vediamo di andare avanti comunque anche oggi insomma c'è da fare ciao ciao come va? benissimo tu bene eh? sole, caffè Bobiza come va la situazione piloti? situazione piloti che sei il primo eh sei arrivato primo eh sei un partito primo vediamo loro quando arriva Nicola si è perso vediamo cosa fa se riesci a trovare la traccia giusta dai dai stariamo stariamo il punto con il signor Ford Walton come è la tua raccoglia? ho pensato che era una piccola è difficile molto difficile più difficile più difficile da l'esterno in un... sì tutto è venuto tutto è venuto quindi full gas full gas qua c'è un po di gente che porta la moto a mano siamo appena fatti una bella deviazione sbagliando strada non ho capito che nel gps stavo sbagliando e quindi sono tornato indietro e inizia a piovere e qui andiamo giù in picchiata in questa foresta che sembra una roba incantata bellissima giorno 2 finito è stata dura anche questa è più veloce di ieri però ho dei discesoni esagerati sono rimasto incassato con la moto ho perso un po' di tempo però oggi diciamo che ho fatto meno il reporter e ho pensato a darci un po' di gas per vedere in classifica come siamo messi eh mi sono fatto prendere cosa volevo... cioè Red Bull Romaniacs sì Romaniacs è bene? San Trades Santiago ciao che classe? Bruns come è stato riuscito? molto bello molto bello è difficile? sì difficile è difficile è difficile è difficile è difficile e difficile questa è la chiusura di giornata una piccola salitella dove dobbiamo salire ecco di qua ecco di qua in pratica uno tribola tutto il giorno arriva alla fine dice sono arrivato alla fine e invece no arrivano anche i top rider non è molto lungo 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 ma sicuramente è un po' di più ehm io ero un po' di dire come alcuni bambini al blogger non l'hanno intervistato farò un reclamo ufficiale con Johnny e papaletti come vedi Manuel? ieri hai fatto primo sì Manuel è come tu puoi parlare italiano? no non posso parlare italiano so che puoi no ciao bella oh mamma mia